Nome? Manuel. Dario. Luca. Cognome? Poggialli. Marchetti. Bono. Età? 33. Se è obbligatorio, 5 come il numero, però ne ho 2, 5-5. 34. Segno zodiacale? Acquario. Acquario. Sagittario. Quanto sei alto? 1,70. 1,81, però dopo l'incidente di Rieca, quando vado a fare le visite, mi dicono, dai, non dire delle cagate, dovrei essere diventato 1,77, 1,78, perché ha avuto un po' di fratture e si vede che a metterla a posto qualcosa abbiamo perso per strada. 1,79. Che cosa fai nella vita? Niente. Diciamo che teoricamente sarei un pilota di moto professionista, in pratica mi occupo di tante cose, sono abbastanza collegato all'attività del DR della Ducati, il Ducati Riding Experience, la scuola ufficiale. Nella vita faccio il compagno di squadra di Dario Marchetti e Manuel Poggialli. È la prima volta che fai la 200 miglia del Mugello? No, no. La seconda, la terza e le altre due le ho vinte. Pista preferita? Phillip Island. Brno e Phillip Island. Imola. Moto preferita? Ducati. Ducati Panigale. 12,99. La tua prima gara in moto? 94. 1979 con l'Aspe Siuma, campionato svizzero a Dimola. Mugello 2004. La tua prima vittoria? 95 in minimo. 1980, gara in salita Osimo Castelfidardo. Vallelunga 2004. La gara più bella della tua vita? Mugello 2003. Mi piace molto Daytona quando ho vinto la Battle of the Twin perché la premiazione era stata più lunga della gara, gli americani per lo spettacolo sono fantastici. Quando ho vinto ad Albacete una gara del mondiale Endurance, un'ottore. Chi è il tuo pilota preferito? Manuel Poggialli. Chesi Stoner? Rossi. Rossi o Marquez? Poggialli. Stoner. Rossi. Rossi o Lorenzo? Rossi. Direi ancora Stoner, però il talento di Lorenzo con la testa di Rossi. Rossi. Rossi o Stoner? Stoner. Rossi. Marquez o Stoner? Marquez. Stoner. Rossi. Marquez o Pedrosa? Marquez. Marquez. Pedrosa. Sei più veloce tu o i tuoi compagni? Dipende per cosa. I miei compagni di squadra perché sono matto ma non sono mica semo, li ho presi a correre con me. Secondo me sono tutti veloci e uguali. Sei più matto tu o i tuoi compagni? Matto Dario. Io sono matto ma non sono semo, loro sono matti ma non so il resto. Deve essere più matto di Dario è fatica, ci proviamo ma siamo sempre in scia, davanti difficile. Manuel l'abbiamo trasformato ed è a fianco a noi adesso, una volta era un po' più indietro. Se dovessi fare una scommessa con i tuoi compagni, che cosa scommetteresti? Dipende da cosa sia da prendere. Ah, con i compagni è duro a scommettere perché hanno due bracine così che andargli in tasca è fatica. Beh, ho già vinto di Dario la Porsche, un Rolex, sono a posto così perché non vorrei rovinarlo. Il punto del Mugello che ti fa più paura? Sono uno specialista della bucine. Io ho avuto un incidente a Rieca, faccio un po' fatica alla Biondetti. La prima staccata. Il punto del Mugello che ti piace di più? Casanova-Savelli, arrabbiata 1. Il punto che mi piace di più, che è uno dei punti più belli del mondo, Casanova-Savelli, arrabbiata 1, arrabbiata 2. Casanova-Savelli, arrabbiata 1. Il punto del Mugello in cui sei più forte? Buccine. Il punto dove sono più forte è il palaggio, però al ristorante, 500 metri più in dentro. Non sono forte da nessuna parte il Mugello. Cosa pensi quando cadi? Alla bucine mi viene molto bene. Eh, succede tutto in fretta, dico speriamo di fermarmi. Ho delle volte e penso, cazzo, ancora una volta, non ho imparato. Sono un cretino. Cosa dici mentre cadi? Non ho tempo di dire niente. Ah, non dico niente. Eh, abbastanza cose che non si posso dire. La tua caduta peggiore? Non mi ricordo, ne ho fatte troppe. Ne ho avute tante di queste. Rieca è stato molto brutto perché mi sono fatto otto fratture nel bacino, mi ha dovuto operare in un posto che non ti faresti neanche levare il sangue. È stato abbastanza difficile, ma siamo qua. Al Mugello, alla bucine, mi sono aperto una mano. Asciutto o bagnato? Asciutto. Asciutto? Bagnato, vediamo domani. 600 o mille? Mille. 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 Qual è il tuo motto? Boi a chi molla. Beh, boi a chi molla. Buttarli in ridere. Pensi che fare il pilota piaccia alle donne? Boh, bisogna chiederlo a loro. Sicuramente piaccia ai piloti, alle donne magari nutre qualcosa di facile. Alle donne piacciono quelli un po' strani, noi piloti siamo abbastanza strani. Beh, tutto fa, ma non basta fare solo quello. Poi se sei lento come me bisogna inventarsi qualcosa di diverso, se no si fa ancora più fatica. Che cosa fai per far colpo su una donna? Sono già sposato, felicemente. Faccio Dario Marchetti, non ho mai sbagliato. Ma di solito la faccio ridere, perché è l'unica cosa che mi viene abbastanza facile. Bionde e more? Bionde. Bionda, anzi, meglio. Bionde e more, rossa, l'importante è che siano fighe. Bionde, ma alla fine si scelgono le more. Quando è la tua prima volta? 16 anni. 16 anni a Misano. 16 anni. Quando è la tua ultima volta? Non c'erano stare, ma era troppo bella. Qualche giorno fa. Questo non si può dire, perché potrebbe essere compromettente. Sempre a 16 anni? Perché? Perché? No, perché, no, è bello così, no? Quanto duri? Il tempo di una gara, di handlers. In moto quanto basta? A letto anche? Duro, duro sempre in moto un po' di più che nel resto. Il posto più strano in cui hai fatto sesso? Letto, ci vorrebbe un po' di tempo. Il letto? Un taxi, guidava Dario Marchetti. Vincerete la gara? Dura, sotto l'acqua, ma ci proveremo. Guarda, non sarà facile, ma le cose difficili sono quelle che danno più soddisfazione. Sì, sì, secondo me abbiamo delle ottime possibilità. L'abbiamo vinta due volte io, quattro Dario, insieme l'abbiamo vinto più di 1200 mila, ce ne mancano poche. Se raggiungiamo 1500 abbiamo dei voli gratis anche. Un messaggio a Dario Marchetti. Ciao Dario, vinceremo anche questa volta. Un messaggio a Manuel Poggiali. Ciao Manuel, hai vinto due mondiali, ma finalmente con me l'anno scorso hai vinto una gara importante. Manuel, al posto di Pedro Solorenzo ci siamo io e Dario, però tutto sommato ridi molto di più che in passato. Un messaggio a Luca Bono. Non hai vinto due mondiali, ma hai vinto due 200 miglia con me. Ciao. 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 Grazie a tutti.